eccoci qui cari amici di viene a vivere all'estero buonasera e benvenuti sono qui per raccontare qualche novità del canale è la novità più eclatante che avete visto che è cominciato per così per diletto il fatto di intervistare altre persone quindi la mia idea è quella di portare chiaramente facce nuove espressioni nuove e storie di persone che hanno fatto qualcosa di particolare per nel loro percorso all'estero oppure anche nel percorso in italia per magari essere essere pronti poi per per partire quindi l'invito è questo se voi conoscete altre persone che hanno fatto dei periodi all'estero particolari mettiamoci in contatto e da lì vediamo se se da cosa nasce cosa e può nassere un interview che porta divertimento a chi la fa se ha voglia di farlo e porta valore aggiunto al canale quindi messaggio semplice semplice una cosa che sicuramente mi fa piacere è vedere che questi video li stanno guardando tante persone specialmente quando c'è c'è l'ospite e quindi sicuramente sembra che sia apprezzata quindi andiamo avanti in quella direzione quindi cercherò regolarmente di lunedì di mettere queste di pubblicare queste interviste e bene vedo che mi fa mi fa piacere insomma che c'è c'è sempre più gente che che guarda i video quindi bene è una cosa che dà soddisfazione ragazzi grazie ancora del supporto e alla prossima ciao ciao